Buonasera a tutti, benvenuti all'appuntamento con il TMV News che realizziamo quest'oggi da Torino dove si svolge il Golden Boy, il premio organizzato da TuttoSport che vede tra i premiati anche Pedri e Lewandowski due calciatori di primissimo piano, ben noti a tutto il mondo con me c'è però il direttore Ceccarini, direttore di TMV Radio, buonasera Niccolò Buonasera a te, buonasera a tutti, buonasera naturalmente ai nostri telespettatori precisi e puntuali come sempre pronti per vivere una splendida puntata del TMV News Iniziamo parlando del sorteggio Champions che peraltro è stato effettuato per due volte per un errore clamoroso dell'UEFA non è stato un sorteggio benevolo per l'Inter che ha pescato nell'Urna e il Liverpool mentre la Juventus avrà un avversario probabilmente sulla carta più abbordabile come Villareale che cosa ne pensi? Penso che quello dell'Inter sia sicuramente un avversario molto forte, più pericoloso possibile quindi insomma è stata sfortunata l'Inter diciamocelo chiaramente perché il Liverpool è una squadra forte, ha tantissime individualità un allenatore vincente come Klopp è una squadra che è abituata a questa manifestazione l'ha vinta, sa benissimo quanto siano importanti certi tipi di partite per cui l'Inter non è stata sicuramente fortunata in questo sorteggio però l'Inter ricordiamolo rispetto all'anno scorso ha fatto un passo in avanti importante perché comunque si è qualificata agli ottavi di Champions League sta facendo un ottimo campionato, la rimonta l'ha completata quindi anche da questo punto di vista il morale sale sempre di più certo quando ci saranno queste partite, arriveremo ovviamente nell'anno nuovo a febbraio la musica, la storia sarà completamente diversa è chiaro che conterà molto la forma ma fondamentalmente se andiamo ad analizzare il valore tecnico delle due squadre oggi il Liverpool è favorito per passare il turno e arrivare ai quarti di finale però le partite vanno sempre giocate quindi Inzaghi sta facendo molto bene e chissà che non venga fuori una grande impresa dell'Inter Sulla Juventus invece cosa pensi? L'avversario sarà il Villareal? Come dicevamo in precedenza sulla carta un avversario abbordabile per i bianconeri? Sicuramente è andata meglio alla Juventus perché comunque la Juventus è arrivata anche prima nel girone ricordiamolo quindi comunque ha avuto la possibilità di affrontare la seconda la seconda in questo caso è proprio il Villareal è una squadra che comunque ha già dimostrato di aver vinto un'Europa League recentemente insomma quindi è chiaro che quando siamo di fronte a questo tipo di squadre soprattutto le spagnole bisogna sempre avere un po' di preoccupazione perché comunque la Juventus non è quella degli ultimi anni è una Juventus che in campionato sta facendo molta fatica ha pareggiato contro il Venezia quindi non è che sia una squadra che sia in grado di andare a vincere in tutti i campi però siccome le partite non accadono mai per caso io parlo anche a livello sportivo e di risultati cioè la Juventus per esempio ha battuto il Chelsea che era la squadra campione d'Europa non nella sua fase a girone nessuno avrebbe detto alla vigilia vedrai questa Juventus non riuscirà a fare al massimo che un pareggio invece poi in casa ha battuto il Chelsea quindi questo sta a significare che bisogna trovarsi anche nel contesto giusto bisognerà vedere soprattutto se la Juventus riuscirà a trovare un po' di continuità perché oggi in campionato la Juventus rispetto all'Inter non ha questo cioè fa molti passi indietro rispetto a quelli avanti che invece dopo una partenza ritardata per cui è un avversario alla portata ma non da sottovalutare ecco per completare il discorso relativo ai sorteggi naturalmente ci sono stati anche quelli relativi all'Europa League avversario molto difficile per il Napoli che ha pescato il Barcellona mentre l'Atalanta se la vedrà con l'Olimpiakos è vero che il Barcellona non sta attraversando un momento particolarmente felice però è sempre il Barcellona insomma l'esperienza internazionale in questo caso pesa e parecchio pesa parecchio però insomma ho visto anche un tweet di Aurelio De Laurenti il presidente del Napoli che è molto orgoglioso di affrontare in questo spareggio mettiamolo così in questa sfida il Barcellona e quindi comunque sarà una partita molto bella sia all'andata che al ritorno e d'altra parte insomma è anche giusto che quando ci sono queste partite uno sarebbe essere contento certo sarebbe stato bello vedere un ottavo di Champions il Barcellona-Napoli piuttosto che naturalmente vederlo in un'altra competizione in una Coppa diversa però ecco basta vedere anche quello che sta facendo il Barça quest'anno quest'anno il Barça è una squadra da rifondare parliamoci chiaro vedendo anche la distanza dalla vetta nella Liga è lontanissimo è arrivato Xavi ma non ha portato veramente quella ventata di entusiasmo che tutti si aspettavano questa è una squadra che va ricostruita e che quindi oggi è battibile anche per il Napoli per cui ecco insomma basta pensare a quello che accade nel campionato spagnolo e questo può essere certo poi l'esperienza come hai detto tu sicuramente fa la sua differenza ma se oggi pensi al Barcellona 2021-2022 e pensi al Barcellona anche di 3-4 anni fa stiamo parlando di due cose totalmente diverse per quanto riguarda l'Atalanta l'Atalanta è una squadra abituata ormai a far bene in Europa soprattutto a livello delle prestazioni perché no insomma voglio dire quindi credo che l'Olimpia possa essere anche per lei un avversario alla portata poi bisognerà vedere anche in quale condizioni arriveranno alle squadre quando ci saranno queste partite in particolare il Napoli probabilmente potrà aver recuperato almeno una parte dei giocatori che adesso sono indisponibili e quindi potrà giocarsela in maniera ancora più decisiva questa partita con il Barcellona detto questo passando al campionato Inter di nuovo in testa da sola alla classifica un Inter che ieri contro il Cagliari ha dato un'impressione di dominio assoluto di grande strapotere a questo punto diventa sempre più la favorita numero uno per questo scudetto Ma guarda Lorenzo io oggi analizzavo un po' i dati della formazione nera azzurra soprattutto di queste prime 17 giornate con Simone Inzaghi al raffronto anche a quelle dell'anno scorso con Antonio Conte e qui Simone Inzaghi bisogna fargli un grande applauso perché sta facendo un grandissimo lavoro la squadra sta andando bene ha ottenuto diciamo la qualificazione agli ottavi di Champions League che era un traguardo secondo me che non era assolutamente da sottovalutare visti anche i trascorsi precedenti è lì in campionato pronto a giocarsi ancora una volta per vincere lo scudetto mi sembra che abbia un potenziale anche più basso rispetto allo scorso anno perché comunque hai perso dei giocatori Lukaku e Hakimi che oggi sono stati sicuramente rimpiazzati da ottimi giocatori ma che non sono quelli dell'anno scorso perché Lukaku è un centroavanti e oggi ha un valore enorme e quindi magari è vero che c'è Dzeko però Dzeko non si può paragonare o anche Correa a quello che poteva essere Lukaku Hakimi è andato via ed è stato sostituito in maniera buona sicuramente da Danfris però comunque si gioca anche Darmian e quindi hanno perso dal punto di vista qualitativo eppure sono lì cioè dati alla mano oggi l'Inter di Inzaghi vale quella di Conte anzi forse qualcosa meglio considerato il potenziale che oggi c'è in questa squadra quindi complimenti alla società complimenti a Marotta complimenti a Osirio complimenti ai rinnovi che hanno fatto per ora per Barella e Lautaro e quello che faranno prossimamente credo anche su Brozovic e su altri giocatori e complimenti a Inzaghi perché arrivare dalla Lazio dopo un bel ciclo così e abituarsi subito al mondo Inter non è da tutti per quanto riguarda invece l'antagonista principale per l'Inter secondo te quale può essere avendo visto questo primo scorcio di campionato c'è chi sostiene che l'Atalanta possa essere davvero una squadra capace di puntare anche allo scudetto io credo che nelle squadre sia sempre tre ovvero l'Inter il Napoli e il Milan io su queste tre squadre penso che si la lotteranno comunque fino alla fine di questa stagione loro tre ci sono l'Atalanta può diventare veramente la mina vagante del torneo tra l'altro ha vinto sei partite consecutive in trasferta ha ottenuto questo grandissimo risultato per la sua storia non succedeva da tantissimo quindi questo dimostra quanto questa squadra vada su tutti i campi giochi con la stessa forza con la stessa volontà con la stessa determinazione con lo stesso entusiasmo passano gli anni del ciclo di Gasperini ma questa squadra ha sempre vitalità ha energia ha fame di vittoria magari c'è qualche scontento ma se c'è lo scontento come poteva essere magari il Papu Gomez lo scedono e vanno a trovare altre risorse altre energie vediamo se arriverà a Bogano il mercato di gennaio che comunque potrebbe essere la spinta per andare a lottare ecco io direi le tre più l'Atalanta come possibile outsider ecco io credo che la lotta sarà fondamentalmente ridotta a questo quartetto con l'Atalanta che ha un vantaggio enorme rispetto alle altre che se non vince lo scudetto va benissimo così perché male male arriva in Champions League da un traguardo sensazionale le altre hanno un po' più di pressione ad oggi una delle grandi delusioni è la Lazio secondo te tra l'altro ricordiamo che la Lazio in Europa League affronterà il Porto così concludiamo davvero il discorso relativo all'Europa League ma guarda Lorenzo la Lazio più che una delusione è una Lazio ancora da lavori in corso mi sembra che sia una squadra che non abbia ancora capito fondamentalmente quello che vuole Sarri ma fondamentalmente Sarri secondo me le idee le ha inculcate a questi giocatori che però passavano da un 3-5-2 classico a un 4-3-3 di natura totalmente diversa e poi ci vuole tempo ci sarà sicuramente stato anche qualche pressione di troppo perché comunque la piazza di Roma non è mai semplice ma io credo che Sarri abbia detto una cosa giusta a volte non sono d'accordo con lui su questo invece condivido totalmente che per fare la Lazio di Sarri ci vogliono 2-3 sessioni di mercato quindi cosa vuol dire vuol dire che questa squadra deve essere rafforzata in determinati settori perché poi alla fine lui adatta alcuni giocatori al suo modulo pur sapendo che questi giocatori devono fare uno sforzo più importante rispetto al normale per poter adeguarsi e cercare di dare equilibrio al reparto penso alla storia di Luiz Alberto penso a Lazzari che comunque sia un giocatore da 3-5-2 pieno e che comunque si adatta penso al fatto che magari forse un alzerno servirebbe penso al fatto che comunque a livello difensivo un altro centrale sarebbe opportuno per dare anche maggior solidità alla difesa quindi la Lazio ha bisogno di diventare la Lazio di Sarri e quindi questo sì sicuramente è una sorta di attenuante giustificazione anche se per esempio sono stati persi per strada dei punti che anche una Lazio che non è totalmente quella di Sarri non avrebbe dovuto perdere ci sono state in effetti anche delle vere e proprie batoste per la Lazio la grande sorpresa è invece la Fiorentina che si è portata al quinto posto e sogna sempre più l'Europa una Fiorentina che aspetta anche rinforzi dal mercato di gennaio icone sembra sempre più vicino a questo punto sì diciamo che questa è un'operazione in strada addirittura d'arrivo è comunque un bel colpo di mercato perché comunque stiamo parlando di un ragazzo classe 98 che gioca nel Lille ricordiamo anche che comunque ha una valutazione di 15 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita per lui 5 anni di contratto e ora vediamo se Fiorentina riesce a tentare la fondo anche su Borca Mayoral che potrebbe essere l'altro colpo per il mercato di gennaio comunque questa Fiorentina già adesso com'è con due innesti veri rispetto all'anno passato perché parliamo di Torreira a centro campo parliamo per quanto riguarda la fase offensiva a un giocatore come Nico Gonzales è lì è al quinto posto in classifica quindi oltre ai due elementi che sicuramente hanno contribuito a valorizzare la rosa c'è questo allenatore che sicuramente gli ha dato un'identità importante e soprattutto ha lavorato anche non solo sulla tattica perché si vede che la squadra è sempre molto corta però ha lavorato molto sulla testa cioè oggi la Fiorentina l'anno scorso la Fiorentina era un po' prigioniera della sua area di rigore oggi la Fiorentina l'aggredisce l'area di rigore ma non la sua quella avversaria e questo è un cambio di mentalità un passo totalmente diverso Vlaovic capo cannoniere della Serie A con 15 reti a questo punto possiamo dire che al 90% rimarrà fino a fine stagione? Allora Dusan Vlaovic mi sembra che stia dimostrando insomma voglio dire ora ancora due o tre partite alla fine di quest'anno solare per cercare di migliorare il numero di gol e secondo me lo potrà fare tranquillamente Potrà battere il record di Cristiano Ronaldo che ha segnato in un anno solare 33 reti Vlaovic ne ha segnate fino a questo momento 32 Esatto ha già superato Tony se non vado errato quindi da questo punto di vista è già un bel traguardo per lui sì io sono d'accordo sulla tua percentuale perché secondo me Dusan Vlaovic fondamentalmente non vuole andare via al termine diciamo di questa sessione di gennaio dalla Fiorentina ma casomai l'ipotesi di andare via la può prendere in considerazione la vorrebbe prendere in considerazione a termine della stagione perché capisce che questo è l'anno della sua consacrazione della sua definitiva consacrazione è un giocatore straordinario però ecco lui è fondamentale perché ha segnato tanti gol con la Fiorentina però è fondamentale in questa squadra diciamo il fatto che tutti partecipino all'azione e possano essere mi sembra che il gol è proprio di secondo di Vlaovic andando ad analizzarlo tutta la squadra ha toccato il pallone cioè tutti gli 11 giocatori dal portiere fino alla finalizzazione di Vlaovic hanno toccato il pallone questo ti dimostra quanto il famoso gioco da basso la partenza da basso ha permesso alla Fiorentina oggi di essere una squadra completa e quindi complimenti a Vlaovic che secondo me appunto nel caso partirà a giugno ma complimenti anche a questa squadra a questo gruppo perché insomma voglio dire sta facendo veramente bene e riscattando l'anno scorso Tra le novità di quest'ultima giornata di campionato c'è stata anche quella legata a Gabriele Cioffi nuovo allenatore dell'Udinese l'Udinese ha sostituito Gotti ha affidato la panchina a Cioffi che faceva già parte dello staff tecnico dei Friulani Cioffi è riuscito con la sua squadra a pareggiare con il Milan ha sfiorato anche la vittoria perché il pari dei rossoneri è arrivato proprio alla fine della partita nei minuti di recupero e di Cioffi abbiamo voluto parlare per scoprire di più il nuovo tecnico bianconero con Gianluca Nani che da DS dell'Al Jazeera nel 2016 ha avuto modo di conoscere proprio Cioffi perché Cioffi faceva parte dello staff tecnico dell'Al Jazeera il tecnico era Tencate e dunque andiamo ad ascoltare che cosa ci dice Gianluca Nani in questa intervista che abbiamo realizzato con il direttore sportivo che è stato anche alla guida del Brescia le tue valutazioni su Gabriele Cioffi che ha debuttato per questa stagione sulla panchina dell'Udinese come sostituto di Gotti e l'Udinese sembra attenzionato a confermarlo il tuo pensiero su di lui visto che l'ha conosciuto all'Al Jazeera e quindi hai avuto modo di testarlo tra virgolette no guarda è un ragazzo molto molto in gamba anche per questo io scommesi su di lui quando in tempi non sospetti un po' perché mi fece una grande impressione insomma a parte che è molto bravo sul campo gestisce molto bene l'allenamento ha i concetti giusti di calcio ti racconto un aneddoto insomma così puoi capire un po' la sua determinazione e la sua capacità lui una volta venne a conoscermi presentato da un comune amico in quanto era molto affascinato dal calcio inglese lui aveva smesso di giocare e gli piaceva l'idea di poter lavorare in Inghilterra come allenatore allora venne da me e io gli dissi parli inglese lui mi disse no ho detto ecco ma fa una cosa ripresentati quando parli inglese così io fui abbastanza trascinato molto duro molto diretto lui tornò dopo tre mesi e mi disse parlo inglese io ho detto vabbè proviamo lui parlava inglese meglio di me allora gli disse guarda complimenti perché diciamo meriti tutta la mia considerazione il mio aiuto perché in così poco tempo ha imparato l'inglese e diciamo che lui fu fortunato io non cominciai a parlarci insomma parlamo a lungo di calcio cercai di capire un po' di cose valutammo tanti aspetti e in quei giorni io fui chiamato all'Algiasira allora ho detto guardi io cerco un allenatore di campo ho detto vieni con me e lui venne con me e anche lì fummo fortunati fu fortunato perché noi arrivamo il giorno che era stato esonerato l'allenatore e quindi eravamo in una fase di transizione tant'è che lui fece le prime due partite l'ha dato benissimo ma l'allenatore era già stato preso quindi lui era solo per quelle due partite ma io rimaso impresso per come lui gestì quelle due settimane io ero molto attento evidentemente quindi come lui gestì quelle due settimane come gestì il lavoro settimanale il rapporto dei calciatori e soprattutto la partita e quindi e poi da lì abbiamo lavorato insieme parecchio tempo insomma all'algesira poi sai io ho un buon rapporto un grande rapporto con Gianfranco Zona e lo consigliai come suo assistente collaboratore e naturalmente siamo rimasti amici quindi per me è molto facile parlare bene di Gabriele perché insomma per il tutto è un amico e poi io gli posso solo prevedere un grande futuro da allenatore insomma io l'ho sempre seguito in Inghilterra insomma siamo sempre rimasti molto vicini insomma ho provato a portarlo con me anche in altre in altre avventure ma lui in quel momento impegnava altrimenti l'avrei portato con me a Redding poi io lo considero molto bravo così come considero molto bravo e sono sinceramente dispiaciuto per lui per Luca Dotti che comunque ha fatto un grande lavoro e sono convinto che agli occhi di tutti questo lavoro è rimasto quindi complimenti a Luca e un grandissimo bocco a Luca a Gabriele ecco e di tutte queste esperienze all'estero secondo te che cosa si è portato dietro Cioffi? guarda c'è un detto che dice il pesce non sa di essere nell'acqua finché rimane sempre nell'acqua quindi più esperienze tu fai all'estero più esperienze tu fai nuove più situazioni diverse tu conosci più puoi ampliare la tua la tua la tua visione il tuo know-how e sicuramente queste esperienze le hanno arricchite le hanno arricchite perché ha conosciuto modi nuovi di fare calcio modi nuovi di ragionare nuovi mondi e tutto questo ti fa crescere sia come uomo che come tecnico lo stesso è successo a me io ho avuto la fortuna di lavorare in due continenti diversi in quattro campionati differenti e questo ti aiuta tantissimo a crescere ripeto sia come professionista che come persona insomma quindi io credo che questo l'abbia fatto crescere e lui continuerà a crescere così come è cresciuto molto lui lavorando vicino a un alleato del bravo come lui come i voti chi conosce molto bene Gabriele Cioffi è anche Niccolò Ceccarini perché lo hai seguito anche da calciatore ricordiamo che Cioffi ha giocato in serie anche nel Torino è un amico sono felicissimo per lui perché comunque questa è l'occasione della sua vita come ha detto anche nel momento in cui è stato scelto dall'Udinese so che ha un ottimo rapporto con il gruppo ha esordito bene con un pareggio contro il Milan che poteva anche essere vittoria perché insomma il gol di Ibrahimovic è arrivato in piano recupero e quindi per lui è una grande possibilità so quanto lavora so quanto ci tiene e quindi sono felice che possa aver avuto questa chance perché poi nella vita non bisogna avere rimpianti lui inseguiva questo sogno che era quello di essere un allenatore da serie A avere un'occasione in serie A lui comunque ha un ottimo e conserva un ottimo rapporto con Luca Gotti che gli ha dato la possibilità di arrivare all'Udinese come suo vice come suo secondo e quindi vediamo insomma adesso si metterà all'opera in un ruolo che insomma non sarà semplice però comunque è un allenatore preparato è bravo ha avuto esperienza anche all'estero anche in Inghilterra quindi conosce molto bene oltre ad essere stato giocatore insomma ci ricordiamo tu dicevi giustamente nel Torino però lui è stato anche nel famoso Mantova dei Miracoli che insomma ha fatto vedere cose eccezionali quindi era uno delle colonne difensive per cui sono convinto che farà bene tra l'altro è stato anche assistente di Gianfranco Zola quindi sicuramente avrà avuto come allenatori ottimi maestri al Torino ha avuto come allenatore Zaccheroni e all'Udinese dobbiamo dire che la squadra non è così male insomma non è una squadra che rischia di retrocedere almeno guardando un po' la rosa guardando il parco giocatore a disposizione cosa ne pensi? no no ma infatti insomma la squadra è una squadra buona una squadra che secondo me può far tranquillamente voglio dire la metà classifica cioè salvarsi con tranquillità è chiaro che poi ho visto a volte succedano delle cose in un campionato che pensi di poter fare dei risultati non arrivano recuperi magari un 4 a 4 anche clamoroso con la Lazio all'Olimpico e poi invece vai a perdere a Empoli e quindi quelli però sono punti pesanti anche se poi oggi guarda la classifica e l'Empoli ci può stare non che l'Udinese perda però insomma è evidente che qualcosa forse si era un po' inclinato nel rapporto Gotti-Udinese e quindi oggi c'è questa chance c'è questa possibilità e lui sono convinto se la giocherà fino in fondo perché c'è un entusiasmo che tra un po' coinvolge anche me ecco tra un po' se non mi vedete più al TMV News è perché sono andato a trovare il mio amico Gabriele Scioffi in ogni caso si avvicina al mercato e quindi anche per questo motivo sei ancora più carico del solito è l'unica cosa che in questo momento diciamo mi piace proprio da impazzire dal punto di vista professionale perché comunque insomma l'ho fatto da una vita la ricerca della notizia è qualcosa che mi porto dentro e quindi sì mi dà l'adrenalina è vero e quindi insomma sono ancora più carico caro Lorenzo ma a questo proposito si dice sempre che a gennaio è difficile aspettarsi un grande colpo stavolta te lo aspetti? no però mi aspetto più che un grande colpo dei grandi scambi a sorpresa cioè nel tipo non lo so si sposta a Marabat e arriva un altro giocatore oppure magari non lo so un Ramsey che esce dalla Juventus e arriva un Witzel per dirti ecco spostamenti magari di giocatori sì dal punto di vista dei grandi colpi di acquisto no ecco però secondo me se la Fiorentina ufficializza i conè dobbiamo parlare di un grande acquisto un grande acquisto tecnico ma anche economico perché oggigiorno chi spende 15 milioni e passa nel mercato di gennaio e poi non è detto perché potrebbe spendere ancora qualcosa in più per la punta dimmi quante società oggi a gennaio riescono a fare operazioni perché anche la Roma si dovrà muovere la Lazio si dovranno muovere ma non so con quale budget e quindi da questo punto di vista insomma la Fiorentina sicuramente sarà una delle protagoniste siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News che abbiamo realizzato da Torino grazie al direttore TMV Radio Nicolò Ceccarini grazie a te grazie a tutti un saluto e poi ci ritroveremo perché io lo sai conto alla puntata 1500 di essere presente qui per cui se non mi inviti per la puntata numero 1500 non mi avrai mai più arriverà tra poco la puntata 1500 sarà da non perdere grazie per averci seguito buon proseguimento di serata a tutti